Servizi su queste partite, le interviste. Grande euforia a Genova, la finale di Coppa dei Campioni è vicina, la Sampdoria però corre grossi pericoli. Mancano Viercovud, Cereso e Lombardo, la Stella Rossa sta pareggiando a Bruxelles, il Panatinaikos segna con Marangos dopo 26 minuti. La squadra di Boscov reagisce 10 minuti dopo Mancini, realizza il gol del pareggio mentre Landerlecht intanto sta rimontando e vincerà contro la Stella Rossa di Belgrado. A Londra quindi andranno i bucciocchiati. Ecco cosa dice il portiere Pagliuca al collega Paganini. A Wembley penso che sia il sogno di tutti i calciatori giocare a Wembley poi una finale di Coppa dei Campioni. Io ho 25 anni, io e i miei compagni siamo arrivati, sicuramente adesso vorremmo il massimo essere da vincere però penso che essere arrivati già a Wembley, una squadra come la Sampdoria penso che sia il massimo. Mister, è stato forse un po' troppo nervosismo in questa partita ma d'altronde la posta era troppo alta. Noi abbiamo avuto due carte, pareggio e vittoria. Con pareggio siamo dentro in finale, però quando i giocatori hanno così testa, il pareggio e basta, sempre si gioca molto più prudente, meno grintoso e meno caricato. Io penso che il primo tempo era molto più bello, anche da parte del Panathinaikos, primi ventina minuti hanno giocato molto bene, anche noi abbiamo avuto più palle e gol il primo tempo che il secondo tempo. Ecco molti dicevano sarà una passeggiata ma così non è stato, il Panathinaikos ha dimostrato di essere una squadra molto ostica. Il Panathinaikos è una delle più grandi squadre in questa parte d'Europa. Sono ricchi e sono molto orgogliosi. Loro erano molto contenti perché l'unico rete che hanno fatto in Coppa Campioni, in nostro gruppo, era oggi. Poi non volevano perdere, anche con un pareggio contro una Sampdoria, loro possono tornare a casa per i contenti. Lei ha provato a vincere la partita inserendo Buso al posto di Invernizio. Il nuovo Buso ha avuto problemi con questo che ha avuto distorsione. Io volevo lasciare Buso e pensavo anche che ultimi 15 punti può fare ragazzo. Perché noi dobbiamo pensare anche a 30 aprile se gioca il ritorno di semifinale di Coppa Italia. Io come i miei giocatori, i tifosi, vogliamo giocare in finale contro i Ventus.